Benvenuti nella guida sul database ASSIA della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Innanzitutto vedremo cos'è ASSIA e come accedervi. Faremo subito la ricerca base, vedremo come vengono presentati i risultati e come scaricare il full text degli articoli. A seguire faremo la ricerca tramite il Thesaurus, la ricerca avanzata e vedremo quali filtri applicare per fare ricerche più specifiche. Infine proveremo a fare ricerche più complesse attraverso la ricerca combinata. Come ultima cosa vedremo come salvare i risultati e le ricerche e creare alert. Iniziamo vedendo cos'è il database ASSIA. ASSIA è l'acronimo di Applied Social Sciences Index and Abstracts, una banca dati bibliografica internazionale che copre moltissime aree di ricerca, tra cui la salute, servizi sociali, psicologia, sociologia, economia, politica, rapporti tra le razze e anche educazione. Contiene più di 300.000 citazioni bibliografiche provenienti da 650 riviste pubblicate in 16 paesi diversi. L'aggiornamento è mensile. La copertura temporale va dal 1987 ad oggi.